Alfonso Signorini ha replicato a striscia la notizia da giorni il direttore di chi viene accusato di raccomandare Francesco Monte al GFV, un'accusa che il giornalista trova del tutto inappropriata visto che non ha mai conosciuto l'extronista di Uomini e Donne prima dell'inizio del reality. Signorini lo ha chiarito nel corso dell'ultima puntata di CR4, il programma di Piero Chiambretti. Mi faccio analizzata davanti a tutto questo, non conosco Francesco, non l'ho mai visto prima anche quando stava con Cecilia, non ho mai avuto contatti con lui, ha detto il braccio destro di Larry Blasi e quando Chiambretti lo ha stuzzicato, asserendo che magari il pugliese è il tipo ideale di Signorini, quest'ultimo ha chiarito per niente alle gambe a X.